Laura allora torneo bagnato torneo fortunato sono bravissimi a parte qualche defaianze di qualcuno ma per il resto sono molto bravi lo sta dicendo anche chi ci ha dato i campi lucarelli e infatti squadre così abituato a seguire i campionati amatoriali che è tutta un'altra cosa mamma mia ma è vero caldense al chassol ma è vero caldense al chassol allora via anche di non mi sta non mi sta non mi sta è so che tempra non mi può fare un'attro ma è vero caldense al chassol mi rosa lo so con un'an stand